Chiedi di nascere, tu chiedi un'istruzione, chiedi lavoro e dignità. Chiedi di avere degli eredi, un Dio nel quale credi, rispettabilità. Una certa autonomia, una vita solo tua, che nessuno ti stravolgerà. Reclamato a gran voce dai suoi numerosissimi fans a distanza di due anni dall'ultimo appuntamento live, ritorna Renato Zero ed è un doppio ritorno. Il primo, l'8 aprile è uscito Alt, il suo nuovo album di inediti, e il secondo è il ritorno dal vivo, come dicevamo, due date, 1 e 2 giugno, Arena di Verona, dove oltre ai suoi grandissimi e innumerevoli successi, presenterà gli ultimi brani inclusi in Alt. Chiedi è il primo singolo con il quale chiudiamo il nostro appuntamento e chiedi di Videotop eh, se non altro ci rivediamo la prossima, ancora qui. Non mancate l'appuntamento con Videotop. Top! Almeno che il dispetto esisti Tu balli neri Questi Almeno che il dispetto è il nostro appuntamento